Amici di Teledeon, ben trovati all'appuntamento con elettori ed eletti. Ormai poco più di 15 giorni dall'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, quando i pugliesi torneranno alle urne non soltanto per il referendum, ma soprattutto per rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il governatore per i prossimi 5 anni. Oggi incontriamo una delle protagoniste di questa competizione elettorale. Grazie per essere con noi, Deborah Ciliento, candidata per il Partito Democratico al Consiglio regionale. Una candidatura che non nasce negli ultimi giorni, una candidatura che rinviene addirittura da 5 anni di esperienza, fatta prima come candidata sempre per il Partito Democratico al Consiglio regionale, poi coniugata con una esperienza assessorile all'interno del Comune di Trani. Oggi riprova il tentativo di entrare in Consiglio regionale con un bagaglio di esperienza sicuramente superiore rispetto al passato e con una costruzione di un percorso sicuramente importante. Così come è importante che proprio a cavallo della indizione di queste elezioni sia stata finalmente approvata la norma che dà la doppia preferenza di genere e che quindi dà la possibilità di votare non soltanto un uomo ma anche una donna. Questa è sicuramente una delle novità più importanti dell'ultima di questa competizione elettorale. Sì, e la cosa bella che comunque è stata voluta nonostante tutti i problemi che ci sono stati a livello regionale, perché non dimentichiamo che non è stata approvata. E' una legge commissariale da parte del Governo nazionale. Sì, dove esponenti comunque del Governo hanno portato avanti questa battaglia politica, perché la donna è comunque all'interno della politica marginale ed è dovuto a un modo di vedere la politica prettamente maschilista. Certo. E la battaglia fatta anche dal nostro territorio, dalla senatrice Assunta la Messina, dallo stesso ministro Boccia, è stato comunque un valore fondamentale che permette alla donna di essere veramente parte attiva nella politica e non vivere i margini. Ecco, questo lo diciamo per quelli che sono un po' più distratti. Significa che concretamente, quando si va alle urne per esprimere il proprio voto, si possono votare all'interno della stessa lista un uomo e una donna. Cioè l'importante è che se si va per votare una donna, si può votare anche per un uomo e viceversa. Certo. E questo è il dato poi concreto. E certo, il voto uomo-donna della stessa lista, dello stesso schieramento. Mentre può valere il voto disgiunto per l'individuazione del candidato presidente, in quel caso l'importante è che l'uomo e la donna facciano parte della stessa lista. Ecco, però ripetiamo, il suo impegno non nasce soltanto perché c'è bisogno di mettere le donne in lista. Il suo impegno nasce da cinque anni di percorso. Come è cambiata la sua visione della politica in questi cinque anni? Il ruolo avuto come amministratore è stato sicuramente molto molto importante e mi ha formata molto. Tant'è che spesso mi dico e dico per fortuna che cinque anni fa non sono riuscita dall'obiettivo regionale perché l'esperienza d'assessore nella giunta Bottaro mi ha aiutata veramente tanto a capire come funziona dal di dentro la macchina amministrativa. Devo dire che l'esperienza, io provengo dal mondo del sociale, ma viverla da assessore ha comunque una valenza differente. Le storie che ho incontrato sono state veramente tante, tante e alcune andate a fine e a buon fine, altre che hanno lasciato il segno. E devo dire tante anche le minacce ricevute, minacce che non sono solo quelle dei proiettili che mi hanno regalato, ma anche quelle della disperazione, che sono quelle più pericolose, dove la gente quando è presa dalla disperazione o si è capace di ascoltarle o veramente va incontro a qualcosa di tragico. E devo dire che in questo ci sono state diverse storie che mi hanno segnata, però una ve la voglio raccontare, che è stata quella che per me è il simbolo del servizio sociale. Durante qualche anno fa, durante l'emergenza freddo, ho conosciuto ovviamente gli abitanti della stazione di Trani, dove nei loro confronti abbiamo cercato in tutti i modi di convincerli, almeno per i giorni più freddi, di spostarsi e dargli un aiuto diverso, almeno per quel periodo. e c'è stato un signore, non faccio nome, che mi disse, no Deborah, perché la cosa bella, io ero l'assessore Deborah, non l'assessore, io ero Deborah, e la cosa bella che questa persona mi disse se mi vuoi bene, io non mi posso spostare di qua, perché sennò perdo il posto e poi resto anche senza questa casa. Se mi vuoi bene, mi devi trovare una casa. Queste frasi, queste parole, per me sono state veramente l'urlo di chi ti chiede una mano, di chi ti chiede una mano e non ne è ascoltato. Ci è voluto un po' di tempo, ci abbiamo messo sei mesi, però la casa l'abbiamo trovata, una casa privata, perché poi è lì la questione, il privato che si mette in gioco, perché il pubblico non può sopperire a tutte le richieste. Allora, che cosa è successo? Che questo signore, gli abbiamo trovato la casa, vi lascio immaginare, dopo 15 anni di persona che dorme in stazione, che cosa è stato? È stato un riscatto sociale, ovviamente. E da questo riscatto sociale, diciamo che tutti dobbiamo imparare qualcosa, perché poi c'è stato un seguito. Dopo che abbiamo fatto il contratto, lui sta pagando lui regolarmente il fitto, perché è un pensionato. Ad un certo punto, dopo neanche dieci giorni, mi chiama la proprietaria con cui abbiamo fatto questo percorso, mi dice, assessore, c'è un problema. Che è successo? Dopo solo dieci giorni? No, no, giù non c'è solo il signore a cui abbiamo affettato la casa. Veda lei, chiamo questa persona, e dico, che è successo? Chi c'è con te? E con lui c'erano altre persone della stazione. E questa cosa, devo dire, lui se l'ha portato con sé, altre situazioni tragiche. Ed è stato un gesto di quella solidarietà che... Solo gli ultimi riescono ad avere. Sì, e che forse ci dovrebbe interrogare un po' tutti. E queste parole sono particolarmente emozionanti e fanno il paio con quelle espresse qualche giorno fa dal ministro per gli affari regionali e le autonomie, il bicegliese onorevole Francesco Boccia, che proprio ha voluto personalmente presentare la candidatura di Deborah Ciliento a Trani, nel comitato elettorale, e ha espresso esattamente queste parole, che Deborah Ciliento è l'ultima speranza per prendere le persone e accompagnarle per mano verso quella politica alta, quella politica che è fatta di servizio al servizio dei cittadini e non per servirsi dei cittadini. Sì, io sono onorata dalla presenza del ministro, perché ha per me un significato molto molto importante. Francesco Boccia per me è un riferimento all'interno del Partito Democratico e devo dire che il lavoro che lui ha fatto in questo periodo è stato, a mio avviso, molto delicato ed importante. Parlo di tutta l'emergenza Covid che abbiamo vissuto. E aver ritagliato il suo tempo ed essere riuscito a venire sul nostro territorio credo che sia un forte segnale. Ed è un segnale che fa capire che la politica è fatta di rete, di rete, di capacità di dialogare insieme e di sostenersi a vicenda per poter raggiungere degli obiettivi comuni. E questo credo che sia stato per me un punto fondamentale in questa campagna elettorale. Che dà onore ma anche tanta responsabilità. Sì, mi dà onore perché comunque avere un ministro è bello e importante. Mi dà tanta responsabilità perché gli elettori che sto incontrando me lo stanno chiedendo. Tutti quanti ciò che vedono nella mia candidatura, e questo mi riempie di responsabilità, è proprio quella capacità di poter costruire con loro una politica fatta di confronto, una politica fatta di capacità di ascoltare, di costruire. E più di una persona mi sta dicendo, Deborah, in te noi vogliamo provare ad investire quella possibilità, non dalla solità politica, ma quella possibilità di sederci intorno ad un tavolo e discutere, progettare. E credo che questo sia un punto fondamentale. Ieri sono stata in un comune, nel comune di Spinazzola, e mi veniva fuori una domanda, qual è la prospettiva politica che volete raggiungere. Io credo che la politica in questo momento debba avere un obiettivo fondamentale, che è quello di far vivere ognuno le persone in città a misura di uomo, fatte di relazioni, fatte di accoglienza. Credo che questo è il punto più importante, perché, come diceva lo stesso Ministro Boccia, la Puglia è una terra che si basa sull'accoglienza, che non può andare contro quei principi per cui noi stessi siamo proprietari. Non si possono costruire ancora fili spinati e gli ultimi non vanno lasciati in acqua a morire. Assolutamente, ma dobbiamo essere capaci veramente di trovare le giuste soluzioni, anche in un momento che è particolare, particolare forse per tutto il mondo. e credo che abbiamo la responsabilità di creare percorsi e progetti che siano veramente di condivisione, di messa in atto, di confronto. Ecco, lei viene oltre che dal mondo sociale, anche dal mondo cattolico. Cosa può portare di questo mondo, del mondo cattolico e del mondo sociale, all'interno del Consiglio regionale? perché poi il Consiglio regionale è dove vanno a comporsi gli interessi complessivi della Regione Puglia. C'è ancora spazio per i cattolici in politica? Beh, su questo è una riflessione importantissima. Lo stesso Papa Francesco ha invitato a scendere in politica la stessa azione cattolica. nei 150 anni c'è stato proprio un invito esplicito del Santo Padre. Ricordo quella giornata, io non ero a Roma perché c'erano impegni politici qui, ero assessore, ma da Roma tutti quanti mi mandarono subito un messaggio. Anche il Papa parla di politica con la P maiuscola ed è l'invito a scendere in politica. Io credo che c'è spazio, c'è spazio per le persone che hanno a cuore il bene degli altri e credo che questo dovrebbe essere alla base del nostro credo. Ora, è un passaggio importante, se da cattolici, da chi ha avuto ruoli anche di responsabilità nel percorso cattolico, io sono stata comunque responsabile dell'azione cattolica per diversi anni, e l'invito a dire ora ciò che hai vissuto, mettilo a frutto degli altri. Cioè non è, intendo di dire, creiamo un partito dei cattolici, perché non vuole essere quello, ma vuole essere il dire mettiamo a disposizione l'esperienza, leggiamo insieme quelli che sono i bisogni e soprattutto mettiamo come primo punto il benessere delle persone. E credo che questa sia stata anche la politica che ha adottato il nostro governo nell'emergenza Covid. mettere al primo posto la salute delle persone. Ecco, come può essere coniugato a favore di questo territorio, questo principio? Quali sono gli obiettivi per tenere insieme, appunto anche dal punto di vista sociale, i dieci comuni che compongono la provincia di Barletta Andrea Trani, che è la circoscrizione a cui fa riferimento? A me piace pensare alla BAT come un'unica città, in cui i dieci comuni sono i singoli quartieri. E in questi quartieri, veramente fare in modo che tutte queste città, quindi tutti questi quartieri, abbiano gli stessi servizi. E quindi quei servizi, quando si parla di sociale, non si deve pensare solo al welfare dedicato solo a chi ha bisogno. Ma in realtà, sociali sono anche i servizi che riguardano ogni cittadino. Quindi la possibilità di avere strutture capaci di dare risposte, che vanno sicuramente dalla sanità, all'accoglienza degli anziani, all'accoglienza degli immigrati, a servizi e strutture che sono presenti. E più delle volte, credo che tutti abbiamo una forza, che è la forza del terzo settore, che è così importante, ma che spesso forse a cui non viene data poi la giusta voce. Sono coloro che usufruiscono del rapporto con la politica, ma non hanno la possibilità spesso di esprimere cosa vogliono offrire alla politica. Ecco, su questo io credo di poter dare quel punto di vista che troppo spesso sfugge a chi è in politica, perché è presi da altre situazioni. Quando si pensa al welfare, si pensa inevitabilmente a chi ha bisogno veramente del pane per mangiare tutti i giorni. Però il welfare è un disegno che, appunto, come diceva lei, ricomprende tutte le categorie. La Regione in particolare, in questi ultimi mesi, ha dovuto far fronte all'emergenza Covid e si è cercato di isolare soprattutto le RSA, che sono le strutture che gestiscono la presenza degli anziani, quelli che hanno bisogno di assistenza, i malati terminali. Insomma, c'è tutta una fascia di popolazione che ha bisogno di cura e attenzione. La Regione che cosa può fare esattamente su questo? Sicuramente sono importanti tutti quei provvedimenti che mettono in sicurezza queste strutture, proprio perché quando si parla di welfare noi partiamo dai più piccoli fino agli anziani. Cioè il welfare, i servizi sociali, sono quelli che prendono per mano da quando si è piccoli fino a che raggiungiamo altra vita. E devo dire che su questo la Regione è sicuramente quello che ha fatto e cercare di mettere in atto dei protocolli di sicurezza per le singole strutture. Ma accanto a questo ci sono comunque degli interventi che devono mettere intorno ad un tavolo il soggetto che usufruisce di questo servizio, chi ci lavora e chi lo finanzia. E chi lo offre. Esattamente perché il punto è che adesso le strutture hanno bisogno del sostegno concreto della Regione perché altrimenti non ce la possono fare e ci ritroveremo con 800 strutture in grossissima difficoltà. Ma infatti una delle difficoltà più grosse dal punto di vista prettamente tecnico è legata proprio al discorso dei buoni servizi dove c'è una macchina che è troppo faraginosa e probabilmente in questo momento è quella che sta dando grossi problemi alle strutture e parlo delle strutture, i buoni servizi per minori, per disabili, per anziani e sono quelle che stanno mandando in crisi diverse realtà. Forse su questo bisogna intervenire e intervenire in maniera decisiva perché è un sistema che già era faraginoso alla luce del Covid e alla luce di quello che è stato e sta creando non pochi problemi. Altra competenza fondamentale della Regione che impegna quasi l'85% delle risorse regionali è quella della gestione della risposta ai bisogni di salute dei cittadini e non a caso utilizziamo il termine bisogni di salute dei cittadini perché non ricomprende soltanto la presenza ospedaliera. Ecco, questo territorio ha bisogno ancora di cura e di attenzione nel settore sociosanitario. Che cosa si può fare concretamente? Sicuramente usciamo fuori da quello che è il piano di riordino ospedaliero e sappiamo bene qual è la situazione. Disegnando questa situazione a mio avviso bisogna porre molta attenzione a ciò che gli stessi dottori stanno chiedendo. Io parlo, sentendo un po' ai medici dei vari ospedali che abbiamo tutti quanti chiedono che ci sia veramente un coordinamento adeguato e io credo che in questo la politica deve essere accanto alla ASL, l'azienda sanitaria ed insieme trovare quelle strategie che non portano ad un maggior costo ma ad una miglior gestione perché è proprio questo il passaggio noi per primi su Trani l'ospedale che si è trasformato in un centro in presidio territoriale di assistenza e quindi in tutto questo bisogna comunque farlo funzionare nell'idea c'è ma far sì che la gente percepisca ciò che effettivamente è ma questo è un po' dappertutto perché non dimentichiamo la BAT comunque per il numero di abitanti che ha, ha diritto anche ad avere un ospedale di secondo livello e quindi provare a capire anche in base alle strutture stesse che ci sono che tipo di gioco si può fare di squadre di rete perché oggi la sanità non è combattere per avere un ospedale sotto casa mia perché quello non ci porta da nessuna parte ma cercare di dire abbiamo un ospedale che funziona e anche se faccio 10 km in più so che posso salvare dalle persone so che posso salvarmi io stesso e quindi è questo credo che sia un dato importante su cui dobbiamo lavorare tutti e allora ringraziamo a Deborah Ciliento candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale pugliese grazie per essere stata con noi torneremo ad incontrarci tra qualche giorno per ancora entrare ulteriormente nei temi di questa competizione elettorale l'appuntamento per tutti nelle prossime ore e non andate via restate con i programmi di Teledeon gioia grazie a tutti grazie Grazie.